c'era una volta c'era c'è tanto faccio così per le tue ginocchia ragazzi avevamo fatto il video con fefei la scorsa settimana preannunciandovi che sarebbe arrivata la nuova di stampa di seven raga tiger duranduran venire doppio con un mix in più rispetto all'album originale che era singolo questo disco era già uscito come edizione nel 2015 il dubbio poi mi è venuto com'è possibile che a distanza di sette anni vi fosse la medesima edizione no non è assolutamente possibile visto che abbiamo capito benissimo che tutti i mesi i vinili vengono stampati in posti diversi per cui adesso ci andiamo a sfruttare ma ma il video è improntato anche su un'altra cosa sarà un'edizione ebilo studios rimasterizzata normale o un ebilo studio mpo qui non c'è scritto nulla no ragazzi qui non c'è nessuna informazione c'è soltanto un modo per capirlo in diretta non sappiamo niente neanche noi lo sappiamo adesso giuro che lo sappiamo allora per vedere perché non vedo meglio ecco se un'edizione rara molto rara c'è soltanto un modo perché anche le buste interne e adesso vi facciamo vedere l'adesivo interno famoso sticker quello che vedete qua sono identici vedete c'è solo un modo per vedere scusate un attimo la metà la luce potrebbe essere mp o vedi fré scusate io sono un po ciecato ma questo è un mp o guarda un po vedi qua sopra questo questo simbolino allargano mp o mp o mp o questa ed edizione nuova 2002 2022 scusate avete visto in diretta il simbolo della mp o cioè questa è un'edizione rarissima allora sentiamo come suona ma è spettacolare che l'unico modo per poter capire se fosse una istampa nuova era aprire vini e leggere sul sul sulla corsia del disco saranno contenti gli amici di malta edizione mp o rarissima allora sentiamo da riflessi bene piano 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 palla palla c'è una persona di l'arte basta così basta così ci abbiamo detto tutto quanto allora avere assistito in diretta perché tanta gente sulle ristampe e sui vinili sparra a proposito uno potrebbe no ma questa è quella vecchia abbiamo dimostrato e questa è quella del 2022 2022 edizione mp o